Gentili telespettatori buona giornata. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, manda un messaggio a Brumotti. Brumotti, Vittorio, dice così, Giorgia Meloni in solidarità, Vittorio Brumotti brutalmente aggredito da un gruppo di spacciatori mentre documentava la situazione di degrado in cui versano alcune zone franche d'Italia. Il messaggio di vicinanza all'inviato di Striscia della Notizia arriva dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che su Twitter ha poi aggiunto questi delinquenti non possono tenere sotto scacco le nostre città. Forza Brumotti, siamo tutti con te. E proprio Giorgia Meloni condivide il video di Striscia della Notizia con l'ennesima aggressione a Brumotti da parte degli spacciatori avvenuta a Brescia in via Rizzo. Tre spacciatori hanno aggredito la troupe che accompagnava Brumotti con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone della troupe, due telecamere e la bici di Brumotti. L'inviato era andato a Brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini, esasperati perché in quella zona, frequentata anche da famiglie e bambini, gli spacciatori ormai fanno da tempo il loro traffici indisturbati alla luce del sole. Si legge in una nota del Tg Sadirico Indisturbati, indisturbati. Ma dico io, ma se la polizia sa esattamente la via, la zona e questi che sono indisturbati, ma perché non fanno una retata? Non circondano la zona e avanzano in cerchio fino a stringerli e metterli tutti in galera? Ma ci vuole un genio nella lampada per fare una roba del genere? Li trovate con la droga addosso, li mettete in galera? Io a volte non riesco a capire il perché non si fanno delle cose. Brumotti l'ha definita l'aggressione più volenta che abbia mai subito. Dice ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d'Italia dalla droga. Ma non può fare Brumotti la battaglia. Ci sono carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, esercito, eccetera, eccetera. Insomma, Italia sveglia, sveglia, sveglia. L'attacco è stato così brutale che si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno poi portato in caserma gli assalitori. Ma più che in caserma doveste portarli in carcere e processarli per direttissima. Vabbè, insomma, io cosa centro? Lo fate voi, ecco. Io do la mia opinione. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.